Nel cellulare gli era arrivato il falso link di una banca, poi una telefonata di fantomatici ispettori di polizia che gli comunicavano che avrebbe dovuto ammettere a sicuro i suoi risparmi perché vittima di hackers. Così un 41enne di asolo è caduto nella trappola dei truffatori online. L'uomo ha accreditato ai malviventi i suoi risparmi ben 18 mila euro. Una volta andata a buon fine l'operazione, ovviamente i truffatori hanno fatto perdere le tracce. Più volte il 41enne ha tentato di mettersi in contatto con i fantomatici ispettori di polizia senza ricevere alcuna risposta. Così non ha potuto fare altro che presentare una denuncia ai carabinieri della stazione di asolo. Le indagini hanno portato alla denuncia per truffa in concorso di un 41enne e di una 28enne, entrambi di origini napoletane. Ed ancora i militari dell'arma di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà per truffa un 62enne di origini baresi che, mediante raggiri, ha indotto per errore un 55enne della Castellana a farsi accreditare 500 euro sul proprio conto per l'acquisto di 5 bancali di legna in vendita su una piattaforma online bancali ma arrivati al 55enne.